Vivi, annegati, tutti cadremo in quell'avviso e tutti cadremo nell'avviso. Siete tutti marinari, gente di mare, di cosa? Siete tutti marinari, gente di mare, di mare. Siete tutti marinari, gente di mare, di mare, di mare, di mare. Da Roviglaska andiamo all'omazzo. Siete tutti marinari, gente di mare, di mare, di mare, di mare, di mare, di mare. Siete tutti marinari. Siete tutti marinari. Siete tutti marinari, gente di mare, di mare, di mare, di mare. Siete tutti marinari, gente di mare. Percorso numero 5 di Roviglaska. Gambi di varicatole, di fianco, fra dentro e sinistro, toccando sinistro, con la modessa dei sassi e viceversa. Questo è buon ambiente. Questa gargazzone di Polzano. Iniziano alle 15. Iniziano alle 15. La montana. Iniziano alle 15. Iniziano alle 16. Iniziano alle 15. Questa è la cosa che adesso io faccio Porta a casa, ci rifiuti, ovvio All'insaglio con i gialli ammi divaricate Le gambe divaricate, ci conduzioni incrociate le braccia in avanti e indietro Questa è la cazzo di rifiuti di giorno partire Il percorso Salta i laterali sopra e mi torna passando sotto allo stesso Guarda Sulla faccia della terra un po' andrà il mento sopra la barra Questa è la Pregnano con 1,5 km Alla massima di 2,5 km Alla massima di 2,3 km Alla duraco 8 km Saranno 6,9 km Però Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.